Dimmi tu, dammi tu via. Salve a tutti, sono Cacciani Giampaolo, nazionale tiro con l'arco. Sto lavorando per accedere alle Paro Olimpia di Rio. I miei obiettivi quest'anno ci sono, per prima cosa, i campionati italiani a Lussara, tra domenici giorni, venti giorni, dopo ci sono gli europei in Francia. Speriamo di arrivare pronto, non come nel 2012, parlo di oggi. Speriamo un po', ringrazio anticipatamente i jeep, i jeep, i jeep, i jeep che mi permettono di andare, di tentare di andare a fare un jeep, nel Brasile, non so più cosa dire, sicuramente.